ciao ragazzi oggi prepareremo il sushi mettiamo il riso mettiamo l'acqua lo prepareremo con zucchine, carote e tonno scogliamo il riso lo sciacchiamo mettiamo l'alga e mettiamo il riso mettiamo il condimento arrotoliamo ci siamo pariamo il secondo questo lo facciamo con il tonno mettiamo le ultime zucchine arrotoliamo ho fatto tagliamo buon appetito buon appetito ciao 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 ciao